Rapido, rapidissimo aggiornamento da Venezia, forse possiamo vedere le immagini in diretta. Il sindaco Brugnaro, Venezia in ginocchio, la Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l'intera città e le isole, danni anche al teatro La Fenice dove l'acqua non ha intaccato tutta la struttura ma ha invaso le aree di servizio. Il direttore degli albergatori veneziani dice manca l'energia elettrica quindi non possiamo nemmeno utilizzare le pompe per risucchiare l'acqua. I sottosegretari Veneti, Baretta e anche Martella hanno fatto sapere che nel prossimo Consiglio dei Ministri, che dovrebbe essere quello di domani, sarà affrontata l'emergenza a Venezia e quindi mettendo in campo i primi interventi.